Negli Stati Uniti, entro il 2021, nei 20 aeroporti principali degli Stati Uniti verrà implementato un sistema di riconoscimento facciale che sarà in grado di scansionare il 100% dei civili che passeranno nei suddetti aeroporti. Voi direte, vabbè, non è una cosa brutta, cioè sarà fatto per tutelare la mia sicurezza, cioè per capire se c'è qualcuno che è un terrorista e sta andando da un punto A a un punto B non ci potrebbe andare, oppure se qualcuno per esempio è un ricercato, un latitante o roba di questo genere sta prendendo un aereo assolutamente corretto. Io sono convinto e consapevole anzi che la nostra società abbia superato in complessità le regole che la gestiscono. Praticamente è talmente complesso il nostro mondo e la nostra società che le regole che sono state create nel tempo per gestire questa complessità non sono più adeguate e quindi bisogna inserirne di nuove, per esempio il riconoscimento facciale è sicuramente una di queste, tutte le telecamere che ci circondano sono sicuramente uno di questi sistemi e questo è senza dubbio bello, corretto e giusto, questo io lo chiamo evoluzione. Ma l'evoluzione ha una caratteristica e deve essere, per essere tale, per essere evoluzione e per non portarci a un'involuzione o una distruzione deve essere regolamentata una evoluzione di questo tipo. Regolamentata significa, ok, voi mi prendete i dati, mi guardate la faccia, cercate di capire chi sono eccetera, poi questi dati che fine fanno? Ecco il problema è proprio questo, non esiste negli Stati Uniti una regolamentazione per quello che riguarda la gestione dei dati biometrici della nostra faccia che vengono presi in questi luoghi. Cioè si parla dei 20 aeroporti principali degli Stati Uniti in cui il 100% delle persone verrà riconosciuta a livello di faccia da degli algoritmi e dei software e dopo questi dati dove vanno? non c'è un tempo oltre il quale possono essere tenuti e poi devono essere buttati, non c'è un utilizzo necessario, non c'è una protezione dei dati, non ci sono delle regole. E perché non ci sono delle regole? Perché noi non sappiamo che vengono fatte queste cose, ecco il motivo di questo video. Il motivo di questo video non è giudicare questa cosa, ma è parlare di questa cosa. Noi spesso non parliamo di quello che sta succedendo perché non lo conosciamo, perché non ci interessa o perché pensiamo che non ci dovrebbe interessare. Ma in realtà, non parlandone, permettiamo che qualcun altro decida che cosa si dovrà fare con la nostra immagine, con la nostra faccia e con i nostri dati. Se un organismo governativo americano decide di piazzare delle telecamere che riconoscono le facce delle persone all'interno degli aeroporti e nessuno dice assolutamente nulla, nessuno manco sa che questa cosa avviene, succede che l'organismo stesso che ha messo le telecamere non farà mai una legge per regolamentare i dati, perché non gli conviene, perché non ne vale la pena. E quindi è fondamentale che riusciamo a capire che certe cose vanno fatte, ma vanno fatte, regolamentate e con regolamenti e norme trasparenti. altrimenti è un casino. rock e roll rock e roll rock e roll Grazie a tutti.